Buongiorno e benvenuti a 7 News, le notizie della settimana. Iniziamo con la cronaca. Andrangheta, operazione infinito Tenacia, legami tra cosche e Stato. Le cosche dell'Andrangheta, radicate in Lombardia e smantellate con la maxi operazione infinito Tenacia del 2010, avevano creato proficui rapporti con uomini dello Stato, tra cui politici appartenenti alle forze dell'ordine e manager della sanità. Questo quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso giugno la Corte d'Appello di Milano ha confermato le condanne per gli imputati arrestati 4 anni fa. Il collegio della prima sezione, presieduto da Marta Malacarne, spiega appunto. La Calabria è proprietaria e depositaria del marchio Andrangheta, completo del suo bagaglio di arcaiche usanze e tradizioni, mescolate fortissime spinte verso più moderni e ambiziosi progetti di infiltrazione nella vita economica, amministrativa e politica. Tra i proficui rapporti che le cosche dell'Andrangheta in Lombardia avrebbero intrattenuto con uomini dello Stato, c'è anche il contributo informativo fornito ai clan da un appartenente alla direzione investigativa antimafia di Milano. Purtroppo ad oggi rimasto non identificato. Lo scrivono gli stessi giudici della Corte d'Appello milanese. Proseguiamo sempre con la cronaca. Ha ritrovato il cadavere dell'uomo che era scomparso da tre giorni tra le montagne del Regino. Vediamo il servizio. Dopo tre giorni di ricerche è stato trovato morto l'uomo di 74 anni, Bruno Nipote, pensionato di merito portosalvo scomparso da martedì scorso sui monti di San Lorenzo. Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuto a cause naturali. L'uomo martedì era uscito di casa per andare a cercare funghi. Non vedendolo rientrare, i familiari hanno poi dato l'allarme. Alle ricerche, coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria, hanno partecipato una sessantina di persone tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino e corpo forestale dello Stato. Ieri, poco prima di mezzogiorno, il macabro ritrovamento. E ora passiamo alla sicurezza stradale in Calabria, un tema che amerita sempre grande attenzione. Presso il campo sportivo di Polistena, all'interno del parco Juvenilia, è stato inaugurato un monumento per ricordare Ciccio Zerbi, calciatore dilettantistico di Polistena, conosciuto nell'ambiente del calcio come il Lupo, scomparso prematuramente per un incidente stradale nel maggio scorso sulla strada statale 682 Ioneo Tirreno. L'evento è stato organizzato dall'associazione Amici del Lupo, nata dopo il tragico evento. Presenti alla manifestazione il presidente della provincia, Raffa, i sindaci della Piana e altre autorità. Presente anche alla manifestazione l'associazione culturale Amici di Raffaele Caserta, con tutto il direttivo che ha donato una maglia con la foto di Raffaele. Si è parlato molto della sicurezza stradale, evidenziando le varie problematiche presenti sulle nostre strade ed in modo particolare sulla strada statale 682 e sulla strada statale 106, dove purtroppo continuano a verificarsi incidenti stradali, spesso, troppo spesso mortali. Calabria, giornata di protesta martedì 30 per i lavoratori precari dell'ISU-Lipu e precettori di ammortizzatori sociali in deroga in Calabria. La mobilitazione è stata indetta unitariamente da CISL, UIL e CGL. Presidi e blocchi stradali a Catanzaro, davanti all'assessorato regionale al lavoro, a Reggio con blocco della circolazione lungo il corso Vittorio Emanuele III e lungomare Falcomatà e a Cosenza lo svincolo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. I lavoratori hanno chiesto il mantenimento degli impegni assunti da parte del Governo e il pagamento dei relativi sussidi arretrati. Movimenti Melito Futura e area grecanica in movimento, a distanza di poco più di 18 mesi dallo scioglimento del Consiglio Comunale e in ragione dei notevoli problemi rappresentati dalla relazione ministeriale del 29 giugno 2014, di prologa dell'incarico della gestione commissariale per altri 6 mesi, sollecitano la triade commissariale entro breve termine a organizzare un incontro con la cittadinanza melitese. Infatti è questa la richiesta che i due movimenti politici di Melito Portosalvo rivolgono ai commissari, aggiungendo che tale appuntamento dovrebbe costituire l'occasione per fare il punto sugli atti assunti con riferimento ad alcune precise problematiche, quali ad esempio la situazione economico-finanziaria dell'ente, l'attività urbanistica e la gestione della raccolta dei rifiuti. L'aspetto quest'ultimo, secondo quanto riportato dalla citata relazione del Ministro dell'Interno, di particolare attenzione. L'incontro quindi assume importanza fondamentale nel percorso diretto a ripristinare quel rapporto di fiducia tra collettività melitese ed istituzioni. Si sono concluse nei giorni scorsi i festeggiamenti a Masella dei Santi Cosma e Damiano. A margine del concerto degli Alma Greca abbiamo realizzato un'intervista alla sagerdote Don Giovanni Gattuso. L'intervista, l'ascoltiamo, è di Claudia Pugliese. Siamo a Masella, si conclude oggi la festa dei Santissimi Cosma e Damiano e chiediamo un parere a Don Giovanni. Che emozioni le sono rimaste? Tante belle emozioni. Abbiamo poc'anzi terminato la processione. Prima c'è stata la celebrazione eucaristica solenne, presieduta dal nostro vicario zonale, da circa un mese nuovo vicario che è Don Giuseppe Manti, nonché parroco di Bagalati, che ha presieduto sia la celebrazione eucaristica e ha spezzato la parola per noi, sia la solenne processione per le vie del Paese che ha visto in entrambi la partecipazione di numerosa popolazione. Ed è stato bello vedere i volti della gente commossi, commossi nel celebrare questa solennità tanto attesa. Ogni anno la gente attende la solennità dei Santi Cosma e Damiano, i loro protettori. Non posso che ritenermi soddisfatto, contento nell'aver visto una numerosa partecipazione, ma soprattutto aver visto la gente pregare, pregare molto, sia con uno spirito di raccoglimento, di silenzio e di preghiera, sia nella celebrazione eucaristica, sia per le vie del Paese. Tante le lacrime anche della gente perché molte persone hanno portato ai Santi anche le sofferenze familiari, le sofferenze personali, sofferenze anche dovute a questo anno particolare di crisi che stiamo vivendo. Con fede e con fiducia si abbandonano totalmente alla Divina Providenza e si impegnano a fare la volontà del Signore. E infine la comunità di Marina di San Lorenzo, con la partecipazione della parrocchia di Rogudi, organizza una fiaccolata per le vittime della strada statale 106, domenica 5 ottobre alle ore 18.30. L'accoglienza sarà in piazza della Chiesa, con la partecipazione straordinaria di Fabio Pugliese, presidente dell'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106, autore del libro Chi è stato? Un racconto inchiesta sulla strada statale 106 Ionica Calabrese, il primo libro sulla tristemente nota strada della morte. La cittadinanza quindi è invitata a partecipare, in particolare tutte le associazioni. A questo proposito ascoltiamo le interviste di Maria Amanti, al stagerdote Giovanni Zampaglione, al presidente dell'associazione Amici di Raffaele Caserta, Gaetano Pace. La comunità di Marina di San Lorenzo, con la partecipazione della parrocchia di Rogudi, organizzano una fiaccolata per le vittime della statale 106. Si partirà dalla Chiesa, si raggiungerà la statale e si ritornerà indietro. Sarà una fiaccolata dove io ho richiesto la partecipazione di tutte le associazioni, e mi auguro che ci siano tutte le associazioni presenti nel territorio. Anzitutto la nostra associazione è la Laurenzianum, che lavora sul sociale, ma soprattutto abbiamo qui a Melito Portosalbo un'associazione, che è l'associazione degli amici di Raffaele. E allora cosa dire riguardo questa fiaccolata? Anzitutto con questa fiaccolata noi vogliamo lanciare un segnale forte. Vogliamo dire basta, basta vittime sulla strada, basta fiori sull'asfalto, cerchiamo di dare precedenza alla vita. Perché dico questo? Perché la statale, come qualsiasi altra strada, ha ammietuto in questi anni tantissime vittime. Penso a mia madre, morta il 9 febbraio del 1996. Penso a Fortunato a Loi, un figlio di questa terra, che io ho perso e che non ho conosciuto purtroppo. Penso a Nunzio Siviglia, penso a Raffaele Caserta, penso a un ragazzo morto ultimamente al nord, di appena 28 anni. Ecco, tantissime persone, molte a causa dell'asfalto, a causa della strada. Allora vogliamo dare un segnale forte, attraverso la preghiera, attraverso la riflessione. Ecco perché invito tutta la cittadinanza a partecipare, a unirsi, un unico abbraccio a tutte le vittime della strada. E concludo affidando proprio alla Vergine Maria tutte le vittime della strada, ovunque cadute. Lei che è madre di dolore, lei che è madre di speranza, possa accogliere le sue braccia materne, come ha accolto Gesù suo figlio deposto dalla croce. E allora l'invito che vi do e che vi lancio, partecipiamo numerose e preghiamo perché non ci siano mai più vittime a causa della strada. E grazie per l'invito che abbiamo avuto per questa bellissima manifestazione che ci onora a partecipare per questa problematica della 106. Noi come associazione amici di Raffaele Caserta, in collaborazione con Codice, siamo presenti su tutto il territorio per cercare in parte di diminuire questi gravi incidenti stradali dove, come diceva Don Giovanni, tante vittime su questa strada, veramente tanti, giovani, ragazzi che hanno perso la vita, è veramente triste parlare di queste cose. Ecco, noi in questa manifestazione siamo partecipi su tutto il percorso. Speriamo che ci siano tante persone che ci collaborano insieme a noi. Noi come associazione amici di Raffaele Caserta abbiamo invitato anche le associazioni, il lupo, come voi già avete visto in questi giorni, l'associazione amici di Ciccio Zerbi, detto il lupo, dove hanno fatto una bellissima manifestazione proprio per ricordare queste vittime sulla 106. Noi siamo stati là invitati e vi posso assicurare che c'è stata una partecipazione popolare che veramente mi è fatto il piacere. Ecco, io vorrei che quello che abbiamo visto ieri a Polistina si ripeta qui dalle nostre zone. Nessuno può dire, tirarsi fuori di questa problematica. Siamo tutti colpevoli di quello che sta succedendo su questa nostra 106. Noi come associazione amici di Raffaele Caserta stiamo lavorando su questo territorio. Naturalmente faremo il resoconto fine anno di quello che abbiamo ottenuto e di quello che andremo a fare nel futuro. Intanto questa manifestazione di domenica è molto importante per noi, è molto importante per tutte le vittime della strada, per tutti i genitori che hanno perso queste persone. E con questo è un segnale che diamo forte, che tutti dovrete partecipare, tutti dovete darci una mano a tutti noi per poter portare avanti questo discorso che abbiamo intrapreso come associazione amici di Raffaele Caserta. Io ringrazio Don Giovanni veramente per la stima e la fiducia e la benavolenza che aveva nei confronti di Raffaele, nei confronti della nostra famiglia, per quello che sta facendo. Naturalmente noi non ci fermiamo qua. Speriamo di farla anche a merito, se ci sono le possibilità, verso fine novembre, di fare una fiaccolata che probabilmente andremo a invitare tutti i comuni sul territorio e fare una grossa manifestazione per ricordare tutti i nostri cari. Intanto io vi ringrazio e vi do appuntamento per domenica alle ore 18.30. Vi invito io personalmente, come naturalmente siete stati invitati già da Don Giovanni, con tanta passione. Speriamo che siamo in tanti dove possiamo veramente farci notare. Grazie di tutto. Rinnoviamo a tutti l'appuntamento di domenica prossima. Ci ritroveremo qui di fronte alla Chiesa Santissima Trinità, in piazza. Ricordiamo anche che ci sarà la partecipazione del Presidente dell'Associazione Basta Vittime sulla Statale 106, Fabio Pugliese, e il Presidente dell'Osservatorio sulla Sicurezza Stradale, il Dottore Salomone. E questo è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi rimando al prossimo appuntamento. Grazie.